buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 30 marzo 2022 ben trovati alla rassegna stampa di fano tv cominciamo la giornata con un'occhiata ai giornali il resto del carlino il corriere adriatico sulle pagine locali ebbene anche marzo se ne sta andando arriverà aprile con il suo carico di primavera e speriamo di speranze per quanto riguarda tutti i problemi che affliggono il mondo in modo particolare la guerra in ucraina e quindi ci mettiamo sotto la protezione di un principe di un principe santo ovvero un principe di casa savoia il beato amedeo nono di savoia nacque nel 1435 ed era il figlio del duca ludovico e di anna di lusignano da giovane fu soggetto a crisi epilettiche che egli sopportò con la forza della sua preghiera e della sua messa quotidiana amedeo si sposò con iolanda che era la figlia di carlo settimo re di francia fu nominato governatore di brescia e del piemonte difese il cristianesimo dalla minaccia turca raccogliendo un esercito per la difesa del peloponneso aiutò molto i poveri e condusse a una vita estremamente austera per cui fu santificato ed ora vediamo le previsioni del tempo vediamo che il sole sta sorgendo insomma è sorto da poco alle 6 e 52 e tramonterà alle 19 e 32 il tempo si sta rovinando rispetto alle alte pressioni che hanno soggiornato che hanno si sono stabilizzate per diversi giorni sulla nostra regione dal mattino sono previste piogge e rovesci a causa di una perturbazione sul tirreno in graduale intensificazione pomeridiana le massime sono in calo varieranno dalle 11 ai 13 gradi i venti spireranno da una direzione di est e sud est il mare si mantiene molto mosso ed ora apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo come l'apertura è dedicata alla fine del momento di emergenza a causa del covid rientrano i prof novax presidi in difficoltà perché i presidi sono in difficoltà perché i insegnanti che non si sono vaccinati non possono entrare in classe non possono stare in contatto con gli studenti non potranno entrare dunque a in classe ad insegnare e dirigenti scolastici non sanno cosa farne di questi insegnanti a fano comunque la situazione non è così importante ce ne sono pochissimi per esempio aliceo nolfi il preside giombi ha detto che ce n'è uno solo dovranno comunque i prestidi studiare come riempiegare questo personale più di un grattacapo comunque samuele giombi ha dichiarato che al momento c'è un'ipotesi di impiegare questa forza lavoro con una collaborazione con il supplente che la sta sostituendo comunque per organizzare magari l'insegnamento fare una specie di prelezione preparare la lezione per poi farla fare al supplente in classe è un problema comunque un po particolare un po così singolare che si manifesta dopo la fine del periodo di emergenza ed ora vediamo anche un episodio di cronaca che si è che confluito in tribunale fa un complimento a una ragazza ed è preso a botte in tre vanno a processo lei il compagno e il padre di lui accusate di rissa e lesioni l'episodio è accaduto in un bar tra pesaro e fano diverso tempo fa lui è un fanese ha fatto il cascamorto nei confronti della ragazza e poi è stato preso a ceffoni dal padre dal padre dal compagno e tutto è ora sotto processo e a fa a pesaro al tribunale di pesaro insomma è una cosa che il ragazzo pagherà cara rispetto a quello che ha fatto e per quanto riguarda l'ordine pubblico abbiamo l'ennesima reprimenda di stefano pollegioni del udc per quanto riguarda l'impiego della polizia locale una polizia locale ha detto all'esponente politico che non deve limitarsi a vigilare sul rispetto delle regole per quanto riguarda il traffico il codice della strada ma deve collaborare intensamente con le altre forze preposte all'ordine pubblico come la polizia e i carabinieri l'organizzazione della polizia locale deve essere cambiata per pollegioni i problemi sorgono quasi sempre nel cuore della notte a fano dopo le 4 del mattino quindi nei pressi dell'alba carabinieri e polizia di stato con una pattuglia a volte due controllano 121 chilometri quadrati di territorio e quindi non possono essere dappertutto se ci fosse un supporto da parte della polizia locale afferma pollegioni la situazione potrebbe migliorare ma certo è che il territorio è grande e le forze disponibili sono poche e poi un altro caso di violenza botte e minacce alla compagna che voleva sottrarlo alla droga finisce a processo e patteggia la pena che poi è stata sospesa a un anno e dieci mesi di reclusione è un albanese residente a fano il quale è un drogato voleva continuare a drogarsi la sua compagna cercava di farlo smettere ogni volta che lei glielo diceva e lui la tartassava non solo minacciandola ma anche percuotendola con schiaffi e pugni e quindi è finito a processo i nei del turismo il comune risolva è un appello questo lanciato dal presidente degli albergatori luciano cecchini luciano cecchini ha svolto un esame dei problemi della città problemi che inficiano le presenze turistiche quali sono questi problemi per esempio la passeggiata dell'isippo un percorso eccezionale per chi cammina o corre ma che va riqualificato fin dal suo ingresso un ingresso molto molto stretto per quanto riguarda appunto l'accesso ma non si vede dove dove si entra per percorrere questa passeggiata e poi vediamo che a ponte sasso e a torrette mancano i parcheggi c'è poi il problema dei servizi pubblici in centro storico al pincio non passa inosservato il box incompensato che nasconde l'ingresso ai sotterrani del bastione del nuti abbiamo poi la carenza della manutenzione dei san pietrini in centro storico e poi ancora nella giornata di sabato e domenica la grande cancellata dell'arco cibo borgia in piazza 20 settembre è chiusa e quindi non consente l'accesso ai musei una situazione che con poco potrebbe migliorare ha detto cecchini basta solo un po' di buona volontà e intanto sono iniziati i lavori per la bonifica dell'area dell'ex AGIP nei pressi dell'incrocio nei carri dell'ex carri del carnevale tre soluzioni sono possibili si stanno vagliando ancora l'amministrazione comunale non ha deciso che cosa fare di quest'area comunque quello che c'è sul piatto è questo si tratta di una pavimentazione fotocatalitica della piazza che presentata in giunta non ha suscitato tanti pareri concordi un'altra idea progettuale al momento la più probabile riprende il disegno originario della piazza che fu delineato dall'architetto De Renzi negli anni 30 quindi del secolo scorso l'ASET però punta a creare 37 posti auto a pagamento e 7 aree di sosta per motocicli insomma ancora si dibatte se fare un giardino se fare un'area di sosta per autoveicoli oppure per fare un'area da monumentalizzare una situazione che ancora rimane in stallo per fortuna però hanno ripreso i lavori di bonifica e quindi questi dovrebbero essere completati al più presto passiamo ora a San Lorenzo in campo dove arriva un nuovo medico di base della Santa sospende il suo lavoro arriva il dottor Giovanni Imperio Roberta della Santa che prestava servizio nel comune con un mandato provvisorio di sei mesi più altri sei mesi è arrivata ad avere circa 1500 mutuati mutuati ha detto il sindaco Dell'Onti che potrebbero passare così direttamente al dottor Giovanni Imperio un giovane professionista di Pesaro che arriverà con un incarico sostituivo di lungo periodo sei mesi estendibili ed altri sei e riceverà appunto i pazienti dello stesso ambulatorio ad Urbino il sindaco Gambini insiste per ripristinare il collegamento con Roma pulman e treno per andare a Roma il sindaco annuncia che per il collegamento diretto con la capitale si ipotizza una prenotazione unica grazie appunto all'Ami il ripristino della corsa Urbino-Roma è necessaria e da tempo la si richiede a più voci pensate che servizio utile sarebbe quello di ripristinare questa tratta per coloro che magari devono andare e venire a Roma andare a Roma e poi tornare indietro in giornata il percorso è lungo quello ferroviario è ancora più lungo e quindi è un servizio che tutta la provincia non solo Urbino richiede a gran voce a Urbino finalmente si tirano fuori tutti i vecchi batanai un'espressione batanai un'espressione dialetale per dire un po' le cianfrusaglie le cose di poco conto gli arredi comunque cose che sono poi preziose graziose e possono servire dal 3 aprile ritornano i mercatini ad animare il centro storico a Urbino un appuntamento che si rinnova ogni prima domenica del mese un po' come la mostra dell'antiquariato a Fano tiro con l'arco sfoderiamo i campioni medaglie in tutte le categorie per i gruppi del nostro entoterra le formazioni storiche vanno fortissimo in questo sport che in questo punto in questo articolo viene puntualizzato ad Urbino vediamo anche le pagine di Pesaro dove si parla ancora dei dehors dei box delle piccole postazioni che gli esercizi pubblici erigono fuori dei loro locali Deore e Tavolini all'aperto con lo sconto solo il 30% di Tosap per gli spazi esterni in più è una delle delibere che l'amministrazione comunale ha preso l'agevolazione riguarda l'occupazione aggiuntiva aggiuntiva ricordate bene non quella che è stata già predisposta ma quella che si aggiunge quindi si paga solo il 30% della Tosap il Comune vogliamo confermare gli aiuti connessi in era Covid anche se il periodo di emergenza è terminato però le facilitazioni proseguono e poi il Comune ha un tesoretto di 7 milioni di euro che verranno usate in parte per sopperire al caro Bolletta lo annuncia l'assessore al rigore Andrea Nobili che porterà nel prossimo Consiglio Comunale le voci di una gestione finanziaria virtuosa dell'ente ovvero il bilancio consuntivo del Comune di Pesaro riguardo al 2021 un bilancio che permetterà una maggiore libertà di compiere le prossime scelte che saranno destinate appunto agli investimenti è un avanzo di bilancio un tesoretto di 7 milioni che in parte potrebbe essere utilizzato per contrastare il rincaro dell'energia in attesa delle decisioni del Governo centrale Nudi c'è la contro manifestazione la sanità trasformata in corrida commenta il resto del Carlino da una parte abbiamo il sindaco Ricci che vuol dare una benemerenza all'ex primario del pronto soccorso di Marche Nord e vuole organizzare una manifestazione in suo favore dall'altra invece abbiamo i Novax capeggiati da Carriera che lo contrasta che lo penalizza io farò la stessa cosa e nello stesso posto ha detto Carriera è inaccettabile dice Carriera sono inaccettabili le dichiarazioni del sindaco Matteo Ricci che meriterebbe non la benemerenza ma meriterebbe una punizione per quanto riguarda le sue dichiarazioni contro i Novax sono dichiarazioni intollerabili parole intollerabili di odio e discriminazione pronunciate qualche mese fa contro chi rispettando la legge ha scelto di non vaccinarsi se il PD vuole premiarlo ha aggiunto Carriera giovedì 31 marzo ovvero domani ci troverà fermi e decisi a contestarli alla stessa ora e nello stesso posto davanti al pronto soccorso dunque due fazioni che si contrappongono che si contrastano da una parte Ricci che vuole premiare Ignundi dalla parte Carriera e Novax che vogliono contestarlo case bruciate le strettoie dividono ma è l'unico deterrente anti-velocità è il rimedio proposto dal Comune per garantire maggiore sicurezza nella circolazione dell'unica strada parte dei residenti però è contraria venerdì ci sarà un incontro pubblico cui parteciperà l'assessore Belloni dunque strettoie per diminuire la velocità in maniera strutturale fisica degli automobilisti che non ne vogliono sapere di rispettare i limiti che vengono imposte vediamo qui la strada di case bruciate ebbene qui con il segnale rosso vediamo la strettoia che viene ipotizzata che viene progettata per far sì che le macchine che percorrono la strada in ambi sensi giunti a questo punto rallentino la velocità e poi per riprendere la velocità insomma ci vuole qualche spazio qualche metro per qualche centinaia qualche decina di metri diciamo così per riprendere la velocità se lo vogliono fare è qui anche in un altro tratto di strada quindi le strettoie usate come deterrente fisico allettramento della ferrovia buone notizie dal Ministero il Sindaco Ricci ha saputo che è stato confermato nella ripartizione dei fondi anche il tratto pesarese ci sono 5 miliardi che vengono utilizzati per ristrutturare la tratta ferroviaria che percorre l'Emilia Romagna le Marche Molise Abruzzo e Puglia e quindi questi soldi ci saranno anche per così coronare questo sogno di spostare la ferrovia dall'attuale posizione più verso l'entroterra e quindi di liberare tanti spazi per mettere tanti collegamenti tra le due parti della città però vediamo come poi in questa storia ci si inserisce anche Fano dopo la rapina il flash mob ai Capuccini il centrodestra no all'escalation del crimine ebbene il furto di quel gioiello che è venuto nello scorso fine settimana sotto il sottopassaggio dei Capuccini ha destato veramente tanta tanta sensazione per cui le istituzioni stanno correndo ai ripari l'iniziativa ci sarà domani un flash mob alle ore 18 i consiglieri il tema sicurezza non va minimizzato alta lo spaccio a cielo aperto e i consiglieri di quartiere Valdinocci e Barest rincarano la dose quando si potrà passeggiare tranquilli in quella zona è un interrogativo che desta una reazione convinta e precisa perché si assumono i dovuti provvedimenti Presidenza di Marche Nord Ceriscioli ha detto no a Ricci il sindaco aveva proposto l'incarico all'ex presidente della regione nel segno della riconciliazione dopo la clamorosa rottura il governatore però ha declinato c'era ancora quella volta Daniele Tagliolini che poi è deceduto mi sembrava inopportuno accettare aver dichiarato Ceriscioli e vediamo ancora due notizie sul resto sul resto del Carlino abbiamo problemi in via Spoleto per quanto riguarda le buche sull'asfalto però c'è un problema via Spoleto è una via privata e l'amministrazione comunale non può intervenire per rifare l'asfalto Visse e Cararese volano a bottiglie uno scontro sfiorato ebbene non si sapeva ma adesso viene fuori che al termine dell'incontro tra la Visse e la Cararese le due tifoserie si sono fronteggiate con fare minaccioso per fortuna l'impronto intervento della polizia ha evitato che le due parti venissero a contatto si sono verificati solo lanci di bottiglie e poi la cosa scemata insomma le due parti si sono allontanate comunque la Questura sta identificando quelli che sono coinvolti anche con le telecamere e forse non è escluso un daspo nei confronti di chi si è comportato in maniera più faccino rosa insomma si stanno identificando i volti e provvedimenti potrebbero anche arrivare altre due macchine rubate a Pesaro la banda imperversa in città è accaduto in via Perosi e in via Isonzo sono state rubate una Golf in via Perosi e un Audi A3 in via Isonzi segno che la città è ancora preda di una banda che da un paio di mesi sta facendo sparire i veicoli oppure i pezzi delle auto ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e poi vediamo come si parla ancora del problema dei profughi sul resto del Carlino sorelle in fuga dalle bombe una odissea Daria e Anastasia raccontano il loro viaggio della speranza sono ospiti di una famiglia all'Edimar sulla collina sopra Pesaro ieri la prima lezione di italiano pensavamo che la guerra sarebbe finita subito ora cerchiamo un lavoro qui hanno dichiarato queste ragazze apriamo anche il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo come si parli di un problema che è in atto da diverso tempo lupi predazione in aumento tavolo per limitare i danni e ieri in consiglio regionale si è parlato di questo argomento grazie ad un'interpellanza proposta dal gruppo consigliare del partito democratico si richiede un tavolo tecnico un tavolo tecnico che possa prendere in esame questo problema e studiare delle possibili soluzioni ne ha risposto all'interpellanza l'assessore alla caccia Stefano Aguzzi il quale ha accolto questa proposta ha detto che sia opportuno stabilire un tavolo tecnico e la regione lo farà senz'altro e poi ha esaminato il problema affermando come i lupi vuoi per la migrazione delle prede ovvero dei caprioli dei cinghiali che si sono così allargati tanto da giungere anche nelle zone abitate e anche per il numero della crescita dei lupi il problema si sta aggravando sempre più e ha parlato anche di due episodi un lupo che lui stesso ha visto nel suo campo di falcineto Stefano Aguzzi fa l'imprenditore agricolo per fortuna siccome aveva i suoi cani sciolti ha avuto un attimo di ansia di paura di timore per fortuna il lupo invece si è allontanato in un'altra direzione invece è probabile che sia stato lo stesso lupo che la notte precedente abbia scavato una trincea sotto la recinzione di un giardino di una casa privata si è entrato all'interno e abbia sbranato il cagnolino che stava in quel posto al mattino dopo i padroni hanno ritrovato i resti di questo povero animale che è stato mangiato addirittura dal lupo lupi predazione in aumento tavolo per limitare i danni inaccettabili consigli online oltre la pandemia per il gruppo consigliare del movimento 5 stelle e ieri c'è stato anche un consiglio comunale di Fano dove questo argomento è salito di nuovo al ribalta i 5 stelle hanno chiesto insistentemente che non venga rinnovata la possibilità di di convocare i consigli comunali online invece l'amministrazione comunale la maggioranza ha ritenuto opportuno nonostante che il periodo di emergenza terminasse appunto domani ha tenuto opportuno mantenere questa forma di convocazione e quindi è stato approvato anche un nuovo regolamento di qui la protesta dei 5 stelle bandi in attesa da oltre tre anni procedure in comune a rilento nel 2022 sono previste 20 assunzioni ma finora è stato selezionato soltanto l'addetto all'ufficio Europa sono in programma diverse assunzioni all'interno del comune di Fano che è carente di personale e poi ne fanno le spese anche molti molti progetti di lavori pubblici di tanti altri settori dell'attività comunale però insomma si procede troppo a rilento e poi è un giorno è una iniziativa importante quella che si sta organizzando all'interno del comune dove si organizzano le votazioni per l'elezione del sindacato interno RSU in municipio dipendenti al voto in tre giorni saranno al voto dal 5 al 7 aprile prossimo come loro colleghe di tutta Italia dunque è in atto il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria della categoria della funzione pubblica 4 le liste depositate per il comune di Fano da altrettanti sindacati abbiamo il CSA sigla radicata soprattutto nella polizia locale e poi la funzione pubblica della CISL la funzione pubblica della CGL e la Will FPL li rappresentano addirittura 26 candidati in totale quindi i consiglieri i dipendenti del comune avranno l'imbarazzo della scelta sulla pagina di Fano si insiste ancora per quanto riguarda le buche nelle strade e la cura e la manutenzione appunto della viabilità adesso l'amministrazione comunale risponde con asfalti per 4 milioni di euro poi ci sarà anche una seconda tranche per 2,5 il sindaco replica le proteste sulle strade 300 mila euro solo per via di mezzo insomma via di mezzo era una delle vie che a Fano Sud oltre a Tombaccia era stata segnalata per lo stato precario di manutenzione e poi c'è anche una forza politica in comune che è particolarmente interessata alla realizzazione del parco dell'aeroporto il parco Polverari cantiere ancora in ritardo ennesima sollecitazione da parte di Carla Luzzi e di in comune manca pure la bonifica bellica insomma si procede molto molto a rilento qui addirittura sono anni al momento si è fatto soltanto una piccola area giochi con una montagnola in maniera un po' appartata delimitata rispetto alla grande area del parco dell'aeroporto passiamo anche a Fossombrone dove vediamo che gli operatori del benessere hanno organizzato una scuola all'avanguardia sono le studentesse del corso Ipsas del Donati che hanno incontrato l'Avolt l'Avolt è l'associazione nazionale volontari lotta contro i tumori che cosa è accaduto qui si parla della Pink Room la Pink Room è un locale dove opera un'equipe specializzata formata da estetiste tricologi parrucchieri psiconcologi che collaborano nel supportare pazienti familiari nel riacquistare quella sicurezza della propria persona spesso compromessa dall'incedere della malattia oncologica quando uno purtroppo questa malattia non si cura più non cura più il suo aspetto perde insomma di personalità in realtà queste persone aiutano dal punto di vista psicologico ma anche pratico a riacquistare la stessa della Santa saluta San Lorenzo in servizio il dottor Imperio cambio tra medici di base a San Lorenzo e siamo in conclusione con questa notizia a questo punto vi lascio il piacere di leggere ancora la parte rimanente dei giornali per quanto riguarda la rassegna stampa noi ci risentiamo domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci